benvenuto bentornati nel canale questo è il mio primo video di una lunga serie dove vi farò vedere e ve lo dimostrerò con i fatti direttamente guardate sono già pronto all'azione come grazie a chat gpt possiamo in qualsiasi ambito scuola lavoro tempo libero problemi legali eccetera trarne un aiuto assoluto se non sai cosa sia chat gpt io ti lascio il mio corso gratuito di un'ora su come usarlo qua in alto nelle schede se poi vuoi ancora approfondire trovi il link qua sotto di un mio corso di circa 5 ore dove da zero ti farò arrivare ti seguirò fino a usarlo in modo davvero massivo e oggi mi rivolgo a tutti gli studenti delle medie delle superiori ma anche perché no dell'università e anche ai genitori di quei bambini che frequentano elementari ma anche di quelli che frequentano le medie ma forse anche dei genitori che dei ragazzi che frequentano le superiori e vi farò vedere come grazie a chat gpt potete aiutarli in tutto risparmiando parlo dei genitori costose lezione di ripetizione andrete ad aiutarli in modo semplice ma soprattutto sarete voi a portare i vostri piccoli ragazzi a crescere nella scuola dunque se siete studenti o genitori di studenti non perdetevi questo video perché ci sarà davvero da divertirsi ma soprattutto questo video vi ambierà davvero il mondo è ovvio non posso non invitarvi a iscrivervi al canale dove si parla di tecnologia si parla di droni si parla di modellismo dinamico e di intelligenza artificiale come facciamo oggi e io vi lascio nelle schede la mia playlist dove trovate vari contenuti di questo genere e quella playlist andrà mano a mano a ingrandirsi ovviamente di contenuti di questo genere se poi alla fine il video vi sarà piaciuto se mi date un like ve ne sarei grato un video abbastanza lungo ma vedrete interessante spero che seguiate con attenzione per intero oggi sono qui per condividere la mia esperienza su come utilizzare chat gpt per diventare uno studente modello era proprio così come molte persone della mia generazione sanno quando frequentavo la scuola media e anche le superiori non avevo la comodità di internet né tantomeno di strumenti come chat gpt studiare era una vera sfida soprattutto quando si trattava di pagine e pagine di test sui libri sulle varie materie che dovevo studiare spesso mi perdevo già alla seconda pagina delle 30 40 e dovevo studiare per l'interrogazione del giorno o dei giorni a seguire credo che tanti tanti capiscono questa situazione io non riuscivo a tenere il passo con le spiegazioni del professore che aveva fatto nell'ultimo mese e perché perché la mia interrogazione era avvenuta un mese fa e io poi non avevo seguito le lezioni perché concedetemi il francese cazzeggiavo è così tanto mi aveva già interrogato giorni precedenti e mi disinteressavo totalmente di quello che lui diceva e passava una lezione passava un'altra io continuavo a non ascoltare poi si arrivava al giro nuovo e ritoccava a me e allora come molti altri studenti alla fine mi mancava il tempo e mi affidavo allora al famoso pignami molti giovani che stanno guardando questo video forse non sanno nemmeno cosa sia il pignami in pratica erano i pignami erano dei riassunti erano dei libretti vendevano in libreria e che venivano usati come aiuto nello studio e erano praticamente dei piccoli sunti di tutte le materie ci erano di qualunque materia erano molto utili per avere una visione d'insieme dell'argomento che si doveva studiare ma spesso non coprivano tutti i dettagli presenti proprio nel libro stesso di testo che io dovevo studiare e che gli altri dovevano studiare e che poteva risultare spesso anzi risultava spesso un bel guaio un bel problema ma noi ne facevamo uso chi vede questo video e ha un po della mia generazione sa bene di osaparlo oggi se fossi ancora uno studente utilizzerei senza dubbio chat gpt come il mio fantastico braccio destro nella scuola chat gpt mi permette di diventare uno studente modello con fatica zero e risultati fantastici e lo vedrete in questo video io potrei chiedere infatti a chat gpt di riassumermi un argomento di spiegarmi un concetto che non ho capito di rispondere alle mie domande sulle materie che io non mi ricordo non ho capito bene e molto altro in questo modo sarei sempre al passo delle lezioni e non perderei più tempo a cercare informazioni esempio sul mio libro o anche su internet ma lo posso fare anche dal libro facendomi aiutare da chat gpt e lo vedremo in questo video con chat gpt io avrei se studiassi adesso è sempre alla portata di mano una risposta precisa ma soprattutto affidabile perché così è in sintesi utilizzare chat gpt come tutor è un'opzione fantastica per diventare uno studente modello senza dover affrontare una grande fatica ma non dico non dobbiamo studiare ma lo facciamo davvero in modo molto più semplice e anche funzionale io non dovrei preoccuparmi di perdere le lezioni perché chat gpt mi aiuta a tenere il passo dico sto dicendo sarebbe perché in questo ambito a me ovviamente non serve più nell'ambito della scuola ma per voi che siete studenti genitori di studenti beh vi serve è come se vi serve e vi consiglio vivamente di andarvelo a provare perché è davvero davvero incredibile e adesso che vi ho fatto un bel quadro spero che mi avete seguito che non vi siate annoiati io sono lungo lo so dicevo adesso vedremo qualcosa di pratico per farvi capire quanto potente sia questo strumento a 360 gradi nella scuola e alla fine di questo video vi lancerò anche alcuni input generali e di idee su come utilizzarlo in modo davvero utile e dunque mettiamoci all'opera mettiamoci il mac ma potete usare tranquillamente sia un tablet sia un mac sia un pc sia uno smartphone perché tutto viene usato via browser e dunque mettiamoci e facciamo insieme delle prove eccoci all'interno del nostro chat gpt ve lo ripeto non vi sto a spiegare come funziona c'è un video ve l'ho allencato ma adesso vediamo insieme quello che io vi ho un po anticipato ovvero io ho scritto a chat gpt domani ho interrogazione di storia l'argomento è la seconda guerra mondiale sono confuso non riesco a ricordare bene i concetti che mi sfuggono le date e non so quale siano quelle più giuste da ricordare insomma le più importanti non so neppure quali siano i temi da trattare che facciano centro sul mio professore può aiutarmi in un testo da studiare molto semplice ma concreto e lui alla mia richiesta mi vedi ha ha risposto certo ti posso fornire una breve panoramia sulla seconda guerra mondiale e mi ha fatto mi puoi vedere una carrellata di informazioni di date di argomenti sulla seconda guerra mondiale e mi dice questi che non stiamo a leggere magari ti fermi il video e vedi cosa mi ha proposto sto l'ho già creata questa questa diciamo questa gestione proprio per andare un po più veloce perché il video ovviamente viene lungo come al solito dicevo lui dice questi sono alcuni concetti più importanti riguardanti la seconda guerra mondiale spero sia stato utile e io li continuo a dire mi fai un riassunto sul ruolo dell'italia nella seconda guerra mondiale vado a chiedere il ruolo dell'italia e lui dice l'italia ha giocato un ruolo significativo nella seconda guerra mondiale essendo un alleato della germania e del giappone e mi fa anche qui una serie di elenchi di situazioni dell'italia e la seconda guerra mondiale a quel punto lui mi dice in generale il ruolo dell'italia nella seconda guerra mondiale è stato complesso e contraddittore insomma mi dice tutto e poi gli dico mi puoi creare un esempio di una piccola tesina emozionale su quello che mi hai scritto sopra parlando in prima persona come se fossi un giovane italiano che ha vissuto il conflitto dall'inizio fino alla conclusione cioè io gli ho chiesto creami una storia come se io fossi una persona che ha vissuto il conflitto e raccontalo in prima persona e lui mi dice certo con piacere e mi va a creare una storia un italiano sono un giovane italiano che ha vissuto la seconda guerra mondiale ricordo ancora con emozione i giorni prima dell'inizio del conflitto quando l'italia ha firmato l'accordo di monaco con la germania e l'eccitazione per l'alleanza con il potente allenato tedesco tuttavia non ho tardato a rendermi conto che la guerra avrebbe avuto conseguenze disastrose per il mio paese e per il mondo intero e continua e mi fa una bella descrizione come puoi vedere fermati il video te lo ripeto e magari leggila è pazzesco come vedi gli dico poi la situazione attuale politica nomica e quanto ha influito il conflitto della seconda guerra mondiale lui mi continua a macenare argomenti a macenare informazioni informazioni che io posso leggermi studiarmi capire approfondire e capisci che mi sta dando un aiuto folle folle e poi vedremo più avanti un altro aspetto questo è il primo che ti ho fatto vedere cioè qui abbiamo individuato un argomento e ce lo siamo fatti raccontare da lui ma posso anche andare a dirgli io in questo caso un'altra cosa gli posso dire da adesso tu sei il mio tutor scolastico eccolo qua e lui mi dice certo sarò il tuo tutor scolastico in che materie hai bisogno d'aiuto ecco in questo momento chat gpt si pone come se fosse il mio tutor e cerca di esprimere i suoi concetti proprio in riferimento a essere il mio il mio tutor colui che mi segue nella scuola e si pone proprio in questo modo e io gli dico domani ho un'interrogazione il testo del mio libro su cui devo studiare è questo e ti faccio vedere cosa ho fatto il discorso è questo te lo spiego perché è fantastico se te prendi un libro un libro io l'ho preso uno a caso che parla perché sono un passionista ovviamente tecnologia di autodesk 3d studio max che è un software di editing di modellazione 3d per essere precisi e cosa ho fatto ho preso semplicemente il mio smartphone lo l'ho messo in uso io ho usato il l'iphone ma potresti usare un qualsiasi telefono che riconosce il testo ci sono miliardi di applicazioni e cosa ho fatto ho sfogliato alcune pagine del libro per farti un esempio le ho incollate su un blocco di testo e addirittura ho usando l'iphone in questo caso io usando proprio l'applicazione note mi fa scannerizzate punto punto un foglio e me lo inserisce testuale e come puoi vedere guarda è molto semplice e vedi sto scorrendo e mi genera praticamente il testo direttamente dal programma per cui se hai un iphone è ancora più semplice è banale e a quel punto mi sono fatto una serie di informazioni relative alle pagine del libro o meglio mi sono copiato esattamente il testo di un po di pagine ovviamente se devi studiare 20 pagine di storia fai la stessa cosa per 20 pagine di storia metti titoli e quant'altro e a quel punto cosa ho fatto sono passato su chat gpt e gli ho detto domani ho un'interrogazione e il testo del mio libro su cui devo studiare questo e io ho incollato il testo un po di testo ovviamente sono tre pagine del mio libro e io gli ho scritto vorrei che mi spiegassi per questa prima parte di capitolo cosa dice e come posso riuscire a capirlo in modo semplice e lui cosa fa semplicemente prende il testo prende questo testo e cosa succede lo riassume lo riassume ovviamente corto lungo stretto largo ma lo riassume per farci capire di cosa parla e lui tutto quello hai visto mi dice l'articolo descrive l'interfaccia grafia dei autodesk 3d studio max un software di modellazione 3d interfaccia è vista come un elemento essenziale per un buon software questo che scrive è praticamente un sunto delle pagine noi li abbiamo scandalizzato e lui praticamente cosa fa mi genera un testo più lungo gli posso dire farmelo di 150 parole farmelo di mille parole e lui mi crea il riassunto oppure potrei dirgli corregge un italiano più semplice perché non capisco bene i concetti base e lo voglio capire ma non mi togliere il grosso delle informazioni e lui si mette là e me lo genera è davvero pazzesco è davvero pazzesco bene a questo punto altra cosa che ti posso far vedere ovvero questa una tesina devi fare una tesina che sia per la fine di un quadrimestre o per l'esame di maturità o anche per una qualsiasi cosa relativa alla materia che hai a scuola e vuoi delle idee vuoi lui riesce a darti delle idee delle tracce riesce a darti degli argomenti io in questo caso cosa ho fatto gli ho detto devo realizzare una tesina collegando alcune materie e spaziando sul programma della quinta superiore ovviamente ripoterei il programma potrei dirgli qual è il mio programma io sono stato molto generico per farti capire la mia tesina però gli dico vorrebbe affrontare tutto quello che è la tecnologia e come può cambiare nel prossimo futuro affrontando sia la parte lavorativa che di vita quotidiana che politica mi dai degli spunti per iniziare una tesina e lui parte e dice ecco alcuni spunti per iniziare la tua tesina sul futuro della tecnologia e mi mette in questo caso cinque punti ben precisi automazione del lavoro come la tecnologia sta cambiando i lavori e come questo influirà sul lavoro del mercato sul futuro del mercato del lavoro intelligenza artificiale come ea sta cambiando il modo in cui lavoriamo e viviamo smart home salute tecnologia insomma privacy mi fa un elenco e mi dice questi sono gli spunti per iniziare potresti eccetera io gli dico attento mi sviluppi questo punto automazione del lavoro come la tecnologia sta cambiando i lavori e come questo influirà sul futuro del mercato del lavoro attento al primo punto lo facciamo a breve perché sennò diventa enormemente lungo e lui inizia l'automazione del lavoro sta diventando sempre più comune a causa progressi tecnologia e mi fa questo testo che probabilmente è un testo da sviluppare ovviamente io lo prendo lo sviluppo ci metto del mio e ho una traccia enorme ma è troppo bassa è troppo corta è troppo breve e allora gli dico è interessante ma io vorrei qualcosa di più articolato almeno anche se ci sono scritto lamento ma io almeno volevo scrivere lui capisce 1500 parole ecco qua che lui guarda qua mi genera un testo bello lungo su quell'aspetto là e poi si blocca e mi sono fermato tanto era per farti capire che poi io posso andare a farglielo fare per ognuna di queste di queste idee che mi ha dato e posso copiarmi ad un file di word andare a farmi tutte le modifiche che voglio andare a approfondire andare a metterci del mio ma ho già una traccia enorme incredibile su cui spaziare su cui lavorare e mi troverò poi alla fine 20 pagine di tesina 25 dove lui mi ha creato una traccia bellissima io ci ho messo del mio e per cui è come se avesse un insegnante con me che mi dà degli spunti e io ci metto del mio e questo credo sia fantastico ma se fai se devi andare a cercare per esempio delle informazioni in inglese e in siti magari non italiani e parecchio tecnici e hai difficoltà a una traduzione perché usi google translate e non funziona bene perché traduce così come legge ecco stessa cosa puoi prenderti tutto il testo incollarlo su chat gpt e dirgli devo capire cosa dice questa cosa perché ho bisogno di usarla in un'interrogazione di domani e lui cosa fa ti fa una ti fa un riassunto breve in italiano di tutto il papier in lingua straniera non è fantastico direi di sì ma ti racconterò andando avanti altre cose davvero incredibili che può offrire questo questo strumento nella scuola dunque andiamo avanti e affrontiamo e appunto e altre cose perché questi sono piccolissimi esempi di cosa possiamo fare un chat gpt e che possa fare in aiuto di studia come hai visto tutto è basato sull'intelligenza artificiale che ci permette di generare testi molto lavorati con informazioni minime ed è importantissimo comprendere come dovete sfruttare questa incredibile risolta e come sfruttarla al nostro vantaggio attenzione non per copiare non per fregare il nostro professore o la scuola ma per farsi aiutare per portare tutti i vantaggi che può portare questa incredibile questa incredibile intelligenza artificiale e allora io vi lancio alcuni modi in cui chat gpt può essere utilizzato a scuola per aiutare gli studenti nell'apprendimento io come prima cosa che mi preme tanto raccontare è quella riferita agli alunni con dei problemi di sa che sono quei disturbi specifici dell'apprendimento che coinvolgono ovviamente l'abilità di lettura di scrittura e anche di calcolo soprattutto per chi soffre di dislessia che che indica di fatto la difficoltà nella lettura ecco questo tipo di problema che è presente in moltissime persone e che delle volte è molto evidente è anche certificato per cui ci sono delle aiuti da parte della scuola ma in altre tante volte nelle più delle volte spesso nemmeno si pensa di esserci di essere di avere questo deficit questo problema perché è presente in modo davvero minore però che colpisce un gran numero di persone e chi ne soffre anche in forme più lievi magari legge un testo molto articolato è attento nel leggere il testo non riesce poi a comprendere bene tutto il contenuto non gli rimane in testa bene il contenuto di quello che ha letto è frequentissimo e per far sì che chi ha questi problemi risolve e entra un po' in merito all'argomento usa le mappe concettuali per aiutare appunto questi disturbi a superare questi disturbi e il problema pensa a prendere un testo e a chiedere a chat gpt di riassumerlo nel modo più semplice possibile e poi se non basta poter andare a usare un'altra intelligenza artificiale un sistema che ad esempio si chiama Synthesia che io vi racconterò nel canale come funziona vi porterò un tutorial presto dunque seguitemi raccomando perché è interessantissimo insomma dicevo daremo in pasto questo testo a Synthesia e questo riassunto lei ce lo leggerà e noi staremo lì a vedere ad ascoltare il nostro assistente virtuale che parla in modo perfetto e ci racconta il riassunto lo ascoltiamo ma non solo potremo anche chiedere a chat gpt di crearci uno schema per una mappa concettuale insomma con questo video potrei continuare ora io ma ve lo faccio vedere perché questo ve lo faccio vedere perché è incredibile anche come fare questa cosa e come ci può creare uno schema di mappe concettuali guardiamola un po' allora io ho scritto sempre al mio chat gpt sono affetto da dsa e lui già capisce la situazione e vorrei se è possibile che mi realizzassi un elenco per creare una mappa concettuale su quanto è spesso sopra si stava parlando sopra perché chat gpt si ricorda tutto quello che è dentro dentro la chat e gli dico mi devi fare una serie di elenchi per usare per fare appunto questa mappa concettuale di quanto abbiamo detto della guerra mondiale e gli argomenti abbiamo trattato subito sopra e lui dice certo lo faccio con piacere ecco un elenco di punti chiave da considerare per creare una mappa concettuale della seconda guerra mondiale e gli argomenti trattati sopra e lui come puoi vedere mi crea guarda un po' qua un elenco di punti che io posso andare poi a sviluppare in una mappa concettuale mi sviluppo proprio un elenco di cose però io cosa dico ma sì è vero però ho un elenco così generale vorrei che mi vorrei io che soffro di dislessia vorrei vedere lo vorrei vedere a schema per poi importarlo nel mio programma di mappe concettuali per cui vorrei una tabella dove vedo bene tutte le cose e allora semplice gli chiediamo mi metti una tabella in tabella l'elenco sopra che io lo importo nel mio programma di mappe concettuali semplice certo l'elenco formato in tabella è qui e guarda qua guarda qua lui non ha fatto altro che intabellarmi punto chiave descrizione e mi ha fatto inizio della seconda guerra mondiale è la data fine della seconda guerra mondiale è la data partecipanti che sono conflitto mondiale conflitto in italia conseguenze cioè mi ha fatto uno schema di tutto quello che avevamo detto in precedenza e direi che è pazzesco è pazzesco pensa l'aiuto che può dare uno strumento così a un ragazzino dislessio a un ragazzino che ha difficoltà nel comprendere un testo direi che è bellissimo e lo ritengo davvero davvero incredibile e questa è una cosa che mi fa capire proprio quanto una cosa di questo genere possa aiutare diciamo chiunque e lo vedremo in altri ambiti ma adesso parliamo di scuola nella scuola insomma io potrei continuare ore a farti vedere cose cioè non hai idea di quante idee ho e il video già è lunghissimo diventerebbe enorme e dunque voglio andare avanti però e ti voglio portare degli esempi ti voglio raccontare ti voglio spiegare come chat CPT può aiutare gli studenti a capire meglio i concetti che non hanno mai ricompreso in classe e fornire esempi e spiegazioni non ho capito una cosa non ho capito un concetto lo chiedo a lui e me lo spiega e non perdo tempo andando a cercare informazioni che poi non trovo mai precise su web gli studenti possono semplicemente porre delle domande a chat CPT e ottenere in modo immediato delle risposte può essere un reale supporto ad esempio linguistico un ottimo strumento per gli studenti che stanno imparando una nuova lingua chat CPT in quanto fornisce traduzioni davvero accurate e corregge la grammatica e l'ortografia anche nella lingua di un'altra lingua per cui ti aiuta a impararla e a crescere anche così chat CPT offre anche un tutoraggio personalizzato agli studenti l'hai visto gli abbiamo detto sarai il mio tutor e lui da quel punto mi risponde alle domande offrendomi anche dei consigli e suggerimento posso chiedergli dei consigli e suggerimenti questo può essere molto utile per gli studenti che hanno bisogno proprio di un aiuto extra fuori dalla classe è un esempio l'abbiamo appena visto con colore hanno disturbi di SA e senza dover andare a ricorrere a ore e ore di ripetizioni lui può darci una mano chat CPT può rispondere a qualsiasi domanda che abbiamo su delle lezioni su dei compiti in cui non siamo non sono tanto chiari chat CPT può generare esempi concreti spiegazioni per aiutarti a capire meglio un concetto specifico all'interno di un libro all'interno di un testo e può anche andare se vuoi a correggerti i compiti in modo automatico e in questo modo ti consente di identificare le tue debolezze e andare a migliorare in modo rapido e preciso quelle sono le tue lacune chat CPT può anche generarti degli esercizi farti delle domande crearti dei piccoli testi domande articolate per argomenti magari che devi realizzare o anche per capire se sei preparato non solo può essere anche un grande supporto proprio alla grammatica all'ortografia infatti se gli poni un testo lui te lo può correggere a livello ortografico e anche di sintassi e ti può aiutare ovviamente a migliorare anche la tua competenza linguistica insomma alla fine ne avrei mille da dirti ma chat CPT può essere un alleato prezioso per aiutarti e diventare brava scuola fornendoti un supporto in molte aree diverse in qualsiasi area e personalizzando la tua esperienza d'apprendimento in base proprio alle tue esigenze a quello che vuoi è pazzesco senza barare ma facendoti aiutare io non voglio fare come fanno in tanti se questo video raggiungerà x views o y like che prossimamente ne farà un altro sulla scuola dove dirò eccetera eccetera io vi devo solo che se seguirete con interesse questo argomento chat CPT e la scuola ne farò altri ne porterò altri con contenuti pieni di esempi di idee perché vi siano d'aiuto in questo ambito e dunque come fare aiutarmi a divulgarlo un'iscrizione al canale ovvio una condivisione sui vostri profili social perché ovviamente se condividete verrà divulgato e sarà visualizzato il più possibile e dunque sarà creerà interessi e dunque ne faremo di altri specifici con idee pazzesche su come rendere davvero chat CPT unico e cambiarti totalmente la vita in tanti aspetti oltre a quelli visti generali sulla scuola ovviamente dimostramelo anche con un bel like a questo video qua sotto e dunque ci si vede alle prossime puntate sull'intelligenza artificiale ci tengo a dirti che questo strumento non è un strumento per andare a fregare poi ci sono tanti e lo useranno così perché potete capire che volendo si può fra virgolette fare un po' i furbi ma io l'ho portato con l'intento di raccontarvi e di spiegarvi che questo strumento vi deve aiutare a crescere nella scuola in modo più veloce se vi piace il tempo libero andare a giocare andare a giocare a tennis a danza a calcio e avete i vostri spazi vi garba la mountain bike prendete i vostri spazi il pomeriggio ma poi tornate a casa avete da studiare ecco usate chat CPT per rendere il vostro studio più semplice più chiaro e portarvi a risultati migliori di quelli magari otterreste studiando un pomeriggio intero e senza fare attività ma semplicemente usando libri e internet ci si vede alla prossima con tanti contenuti nel canale ciao dal big